Io ero Sono io. Buongiorno a tutti. Nei prossimi minuti proverò a fare una cosa che devo confessarvi che non è tanto nelle mie corde e come avrete sicuramente già intuito non è nelle mie corde nemmeno stare su un palco. Però sono qui e a proposito di connessioni proverò a cercare insieme a voi il filo rosso che connette due parole secondo me molto importanti. La prima è vocazione e la seconda è responsabilità. Partiamo da vocazione. Voi lo sapete qual è la vostra vocazione. Fra i tanti fili rossi qual è il nostro? La cosa per cui siamo nati? La cosa giusta per noi? Non è mai facile capire qual è la nostra strada, qual è il nostro destino. Almeno per me non è stato facile. Normalmente si pensa che uno sia destinato a fare quello che è bravo a fare, ma da piccola sembrava che io fossi brava a fare tutto. Vi sembrerà paradossale ma quando è così le cose si complicano. Ricordo benissimo quando è stato il momento, il punto in cui ho fatto click. È stato quando a un certo punto ho smesso di fare le cose per fare piacere agli altri, di fare le cose perfette, le cose belle. Anche se tutti sembravano contenti, io non lo ero perché capivo che non mi bastava. E allora cosa ho fatto? Ho iniziato a scrivere numeri e lettere ovunque e a legare le cose fra di loro. E lo facevo di nascosto. Non sapevo esattamente perché. Capivo che era una cosa che mi apparteneva. Non sapevo nemmeno se ero brava, ma non mi interessava. Non era questo il punto. e in effetti detto così sembra una cosa da pazzi o da artisti. Devo dire che è stato in quel momento che ha iniziato il mio percorso di artista. Allora non lo sapevo, ma adesso lo so. Oggi questo percorso è sotto gli occhi di tutti. Non è più nascosto. E la gente mi chiede e si chiede. Ma perché scrivi i calendari? Perché leghi le cose fra di loro? Cosa vogliono dire gli alberi legati? Perché faccio le cose che faccio? E vi confesso che il mio gallerista se lo domanda ancora. Lui ha scritto una cosa che suona come a Letizia ci lega un sottile filo rosso. L'ho letta talmente tante volte che me la ricordo a memoria. Lui dice col filo lei non tesse e non disfa, semmai ricama delicati disegni in punta d'ago. E io mi sto chiedendo cosa fa? Cosa ci vuole dire? Cosa mi vuole dire con quel filo di un rosso incandescente, con le sedie legate, con le tazzine, con gli alberi, con le mosche sotto i bicchieri? Lasciamo per un secondo in disparte queste domande e torniamo al momento in cui ho fatto click. Allora non lo sapevo, però adesso lo so. Avevo imparato a percepire meglio me stessa. E la connessione profonda fra il mio mondo interno e il mondo intorno a me. Provo a spiegarmi un po' meglio. Per farlo devo scomodare Santa Caterina da Siena, niente po' di meno. Perché Caterina è stata una di quelle donne che hanno costruito un proprio progetto per opporsi a un programma stabilito da altri. Suo padre voleva chiuderla in una stanza e lei ha estremizzato il gesto di suo padre e in questo modo è diventata la padrona della situazione. Praticamente come dire, tu credi di chiudermi dentro, sono invece io a chiuderti fuori. E così Caterina si è costruita quella che lei ha chiamato, con un'espressione meravigliosa, la camera della mente. Tutti abbiamo una camera della mente. Non solo Caterina, non solo gli artisti. Peccato che non sempre ci andiamo. È un luogo interiore, è un posto dove lo spazio e il tempo sono diversi. Da lì le cose si vedono diversamente, è tutto più chiaro. Lì non arrivano le voci da fuori. L'unica voce che si sente è la propria voce interna, che è una voce sincera, gentile. È come un rifugio, è una casa. E i progetti nascono lì. Le connessioni fra dentro e fuori vanno e vengono da lì. Stabilire delle connessioni è una cosa possibile se dentro e fuori comunicano. Se stiamo solamente fuori, sempre fuori, ci può capitare di vivere secondo un programma e non secondo un progetto. E io ho imparato a entrare e uscire virtualmente da questa stanza e a trasformare le intuizioni, i pensieri. I pensieri in immagini e le immagini in azioni. Questa è un po' la linea che è venuta fuori da sé, ma perché c'era già, come tutti l'abbiamo già. Le intuizioni nascono dentro e poi si trasformano in azioni che vanno fuori. E queste azioni sono diverse da quelle che compiamo abitualmente il più delle volte o quelle che facciamo perché qualcun altro ci dice che cosa dobbiamo fare. Costruiscono delle connessioni che ci appartengono, che ci somigliano e quindi hanno senso. E per farvi capire un po' meglio ancora, perché per gli artisti non è automatico parlare. Se io fossi brava a parlare non farei quello che faccio, parlerei. Invece ci provo in qualche modo, poi metto le immagini e spero che questo connetta. Ma per farvi capire un po' meglio di cosa sto parlando, mi viene appunto in mente un esercizio che si faceva nelle scuole di pittura. Era un esercizio di visione molto, molto bello. Quando ci si trova a un punto morto di un quadro, senza capire che cosa non funziona, senza sapere come andare avanti e dove intervenire, si volta il quadro. Lo si mette a testa in giù e lo si guarda da lontano. Lo si guarda praticamente dal buco della serratura della camera della mente. Ed è un rimedio infallibile, straordinario. Immediatamente risulta perfettamente visibile qual è il punto su cui bisogna intervenire. Anche nella vita si può fare così. Se siamo incastrati in una situazione in cui ci sentiamo in trappola, in cui niente gira come dovrebbe, ci si tira fuori dalla situazione e la si guarda da lontano. Nel quadro è questione di pesi e di relazioni. Guardando sempre da vicino e dallo stesso punto, i giusti pesi e le giuste relazioni non si vedono, sono invisibili. Si vedono sempre e solo le stesse cose dallo stesso punto. Allontanandosi e guardando diversamente, invece, si vedono i pesi delle cose come in un cosmo. E il giorno in cui ho fatto click è stato il giorno in cui ho imparato. Ho imparato che esiste uno schema segreto che collega le cose, le persone e tutto quello che ci circonda, che da invisibile può essere reso visibile. Entrando nella camera della mente, si sente l'invisibile. Se uno sa sentire e vedere l'invisibile, si svela il linguaggio del quadro o della vita. Paul Klee, che era veramente una gran persona, diceva che il quadro è finito quando il quadro ti guarda. Cioè, è lui che ti dice qualcosa di te del mondo, mentre tu pensavi di essere tu e avere qualcosa da dire. Ma la cosa importante è che questo gesto non è una prerogativa degli artisti. È una cosa che ci riguarda tutti come esseri umani. La cosa importante, la cosa che conta, è percepire questo schema invisibile in cui noi siamo immersi. Per capire qual è la nostra direzione, la cosa fondamentale è vedere dove siamo noi in questa ragnatela misteriosa, che è molto più grande di quello che ci sembrava mentre ci sentivamo intrappolati. E capirlo significa rispondere alle domande da cui eravamo partiti. Io oggi leggo gli alberi, le tazzine, scrivo i calendari, cucio per rimediare i danni, per rimettere insieme le cose slegate, per ricostruire delle connessioni, per unire il visibile all'invisibile in modo che si ricostituiscano delle unità e che tutto faccia parte del grande quadro. E la domanda è cosa succedono alle cose quando sono legate. Stanno in piedi meglio. Possono essere un po' impedite nei loro movimenti, però rivelano degli aspetti, della loro forma e delle possibilità di interpretazione che prima non si vedevano così. Evidenziano uno spazio che esisteva già, ma che non si vedeva in questo modo, quello fra gli alberi per esempio. Quando uno capisce che lo spazio può essere diverso, capisce nel senso di sentire, sente e vede che lo spazio può essere diverso, cambia anche la sua relazione con l'altra dimensione fondante della nostra vita che è il tempo. E quando ci prendiamo cura del tempo, quasi sempre ci stiamo prendendo cura di noi stessi, delle cose e del mondo. E siamo e ci sentiamo sulla nostra strada, e siamo e ci sentiamo connessi a qualche cosa che è molto più grande. Quindi non ci sentiamo soli. Ecco perché io scrivo i calendari e leggo le tazzine e le sedie e cucio per rimediare i danni. Oggi non mi faccio più tante domande, perché so che la cosa importante per me è sentire e vedere con gli occhi della mente. Oggi so che il filo conduttore del mio lavoro è la spiritualità. Connessione per me vuol dire percepire questa dimensione dell'invisibile sempre. Ormai la cerco in ogni istante della mia vita. La sento, la riconosco, guardo le forme e capisco se chiedono di essere legate e come e quale è la loro dimensione di tempo. Ma in realtà tutti possono cercare la connessione. Possono sentirla, vederla, magari perderla e poi ritrovarla. E quando l'abbiamo ritrovata e riusciamo a mantenerla, capiamo che siamo noi stessi, che siamo, abbiamo trovato la camera della mente. È come un profumo che si spande su tutte le cose. Potremmo mettere la parola talento al posto di profumo. Come riconoscerlo? Ciascuno ha il suo, ha un buon profumo, sa di buono praticamente, no? Ed è la cosa che per noi conta. Quindi credo che la cosa importante per tutti noi sia attivare questa conoscenza che esiste. Fra le mille domande che mi sono state fatte e che in qualche modo hanno centrato la mia ricerca e mi hanno aiutata a crescere, ce n'è una che considero centrale e che è stata proprio come una freccia in mezzo al bersaglio e che mi aiuta a portarvi alla seconda questione che è quella della responsabilità. Ed è una domanda che mi ha fatto uno dei miei figli, Rocco, che davanti a un calendario non mi ha chiesto di spiegarglielo o che cosa volesse dire. Lui mi ha chiesto mamma perché hai voluto farlo? Ed ecco che si svela cosa c'è dall'altra parte del capo, del filo rosso. Da una parte c'è la chiamata che è la vocazione, dall'altra parte c'è la risposta, la responsabilità, la responsabilità di seguirla, la vocazione. Quando abbiamo capito chi siamo, qual è il nostro talento, cosa ne facciamo di chi siamo? E questa è una domanda con cui vi lascio perché la domanda è ancora sempre, oggi, in ogni momento, anche la mia domanda. Grazie. 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 Grazie.